Vittoria esposito stratosferico, una tripletta, almeno altre tre occasioni per andare in gola, assist a volontà. Il grande ex di turno piega il giovane Giulianova costretto alla resa al cospetto di un grande giocatore. Il Matelica continua la sua rincorsa alla San Benedettese, 4-0 il risultato finale. Ci sta perché i marchigiani hanno sofferto poco, hanno amministrato bene le giocate. Il Giulianova le sue due e tre occasioni le ha anche avute, ma sottoporta ha sbagliato incredibilmente. Certo non era contro il Matelica che i giallorossi potessero sperare di fare punti salvezza, ma un dato è emerso rispetto alla gara di metà settimana contro il Fano, seppur perdendo l'undici Giuliese aveva offerto una prova molto più convincente. Tra gli ospiti non c'è il portiere Proietti, seppur tesserato in settimana, ma non disponibile perché deve finire di scontare due giornate di squalifica rimediate nel campionato di Serie B Svizzero. Sarà a disposizione dopo la sosta. Sin dalle prime battute si capisce che il possesso palla sarà dei padroni di casa che chiamano in causa Ursini a più riprese. L'estremo giallorosso chiude bene lo specchio della porta e ci mette più di una pezza quando Esposito si presenta tu per tu. Nonostante il gran volume di gioco, il Matelica non riesce a sfondare il muro abruzzese. Anzi, la truppa Giuliese ha l'occasione di sbloccare al 41esimo. Marzucco si ritrova il pallone a due passi dalla porta, ma spara clamorosamente alto. Ad un minuto dal riposo i locali sbloccano una gara che rischiava di complicarsi. La firma è di Pesaresi che manda la sfera all'angolino basso dove Ursini non può arrivare. Con il vantaggio acquisito, tutto sommato meritato, la formazione di Clementi torna negli spogliatoi rinfrancata. Nella ripresa la musica non cambia molto. Il Giulianova dà solo l'impressione di avere un certo possesso palla, ma intorno al quarto d'ora, su punizione, Esposito fa passare la palla sotto la barriera, sorprendendo Ursini per il 2-0. I giallorossi la partita la potrebbero anche riaprire, ma Pellecchia timbra il palo e a Di Stefano non riesce il tapin. Così arriva il 3-0 di Esposito al 24esimo. Il talentuoso attaccante calerà il poker per i suoi al 33esimo, chiudendo di fatto i conti, senza neppure esultare più di tanto, quasi per rispetto della sua ex squadra, nonostante i tifosi giuliesi lo avessero beccato per quasi tutta la partita. Il finale di gara è solo pura accademia. Alla fine applausi per tutti, anche per il Giulianova, che è alla ricerca sul mercato di un attaccante per risolvere i problemi in fase offensiva. Il Matelica resta in scia-samb.